Il cimitero dei grandi di Firenze è stata una proposta del sindaco di Firenze. Credo che la città di Firenze, con la risposta di ieri, di oggi, ha anche riconosciuto questa sua significatività. Qui ci sono tanti partigiani, lui sta insieme a questo filo dei partigiani, nella storia partigiana, della resistenza, dell'antifascismo. Aspettiamo che questo abbraccio non termini, in fondo abbiamo scelto di fare della morte di Lorenzo, come prima nella vita di Lorenzo e della morte, prima ci pensava lui, ora ci stiamo pensando noi, un aspetto politico, sociale. Abbiamo scelto, e l'abbiamo dimostrato sia con la veglia di ieri, sia con questa sepoltura, di farne un'occasione per la città, di riflessione, di stimolo, di partenza. Quindi noi, anche da questo punto di vista, abbiamo lanciato un crowdfunding con l'idea di raccogliere da un lato le spese che erano a carico della famiglia e dall'altro di mettere su un'associazione e di continuare questo percorso con iniziative sia qui a Firenze sia per Java.